Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, buonasera, benvenuto Massimo Galli, primario infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano. Buonasera, benvenuto in collegamento da Londra Vittorio Colao, top manager, buonasera, bentornato Stefano Massini, scrittore drammaturgo e buonasera, bentornato Antonio Padellaro, editorialista del Fatto Quotidiano. Allora anche oggi avete sentito i numeri non sono confortanti, ma diciamo che l'Italia sta tenendo duro e comunque sta reagendo nel giorno in cui l'OMS ha dichiarato l'Europa epicentro della pandemia, quindi ormai tutti gli altri paesi sono coinvolti anche se con misure molto diverse rispetto alle nostre. Allora diciamo che viviamo tutti in una situazione molto estrema, di estremo stress anche e noi questa sera vogliamo farvi, spettatrici e spettatori, un piccolo regalo perché dopo la pubblicità sentiremo come sta vivendo questo momento di emergenza Adriano Celentano, quindi un personaggio pubblico che gli italiani amano molto, quindi dopo la pubblicità. Allora Doyle benvenuto a Adriano Celentano, Adriano è collegato con noi per telefono, grazie per averci fatto questo regalo, questa mega esclusiva per otto e mezzo. Come stai? Da dove ci sta chiamando? E come sta vivendo Adriano Celentano questi giorni di emergenza? Ciao, no io ti sto chiamando, ti sto chiamando, mi state chiamando da casa. E come stai? Come stai vivendo questo momento? Beh, io è chiaro che ho paura, stiamo vivendo un momento storico, in questi casi credo che la paura sia un atto di coraggio, per esempio il coraggio di non uscire di casa o di fare scelte appropriate da parte e di chi ci comanda. Non sto parlando dell'Italia, penso che il governo ci stia muovendo nel modo più giusto. Mi preoccupano piuttosto i paesi attorno all'Italia, i quali mi sembra che adottino misure tutt'altro che sono restringenti per affrontare l'emergenza. Adriano Celentano, aspetta un attimo perché voglio interpellare Stefano Massini, siccome voi siete amici e so che Stefano aveva pronta una domanda per te. Stefano? Sì, noi siamo amici perché lo vedo sempre a piazza pulita. Ciao Adriano, la domanda che ti posso fare è molto semplice, nel senso che ci racconta la storia che l'ultima grande paura collettiva italiana è stata il sequestro di Aldo Moro. Io avevo tre anni quando accadde, quindi non posso ricordarmi, ma tu che sei un testimone della storia del nostro paese ti chiedo che cosa ti dicono, cosa ti raccontano queste due grandi paure, quella e questa di questi giorni? Beh sì, anche quella storia, quella delle Brigate Rosse è una paura grandissima, però al confronto con questa non esiste, perché vedi quella del tempo delle Brigate Rosse era molta paura, cioè nel momento in quel periodo sembrava forse scoppiata la guerra, però avevi sempre una speranza che lo Stato cercasse di beccare e di arrestare quelli delle Brigate Rosse, quelli che uccidevano così con una facilità estrema. Mentre invece qui è diverso, è diverso perché il nemico non lo conosciamo, è un nemico invisibile, non sappiamo chi è, se altro, magari è un gigante però non lo vediamo, oppure è piccolo e ci cammina sul bordo dei pantaloni, è una cosa che non è paragonabile a quello che si sta provando adesso. E poi c'è un altro fatto, che questa è una paura globale, quella delle Brigate Rosse era una paura italiana, oppure al massimo in un altro paese, ma non di più. Adriano Celentano, posso chiederti, tu che consiglio dai contro la paura, contro l'ansia, come dobbiamo fare? Ma sai, contro la paura non è che ci sono tanti consigli, la paura intanto è giusto che noi l'abbiamo, per esempio, perché così capiamo prima quando dei mezzi di comunicazione ci dicono di non uscire di casa, invece vedo che qualcuno, ancora stamattina io ho visto qualcuno, uno ha un servizio alla televisione dove al parco di Roma c'era un sacco di gente che festeggiava, sembrava che questo problema non ci fosse, il problema del virus, non so, sembrava quasi che brintassero al virus e quindi in questo caso è giusto avere paura. Ciao Antonio. No, quindi voglio dire che detto questo però la paura fa paura, ma dobbiamo anche prenderla con freddezza e combatterla e dire dobbiamo andare avanti, poi quello che succede, succede, non credo che ci sia in qualche altro modo. Come ci cambierà Adriano Celentano questa emergenza? Ma io ho la sensazione che tutto questo che sta per succedere, che è una cosa che non è mai successa nella storia del mondo, mi dà l'impressione di come una specie di avviso, che per esempio il 29 aprile sappiamo che c'è un sasso che ci sta venendo incontro e che però per questa volta forse, forse solo per questa volta, sfiorerà la terra e quindi in qualche modo ci cambierà. Io vedo che per esempio il fatto che le città sono ferme, l'inquinamento si è abbassato, c'è meno violenza. Quindi ci cambierà il meglio? Beh, è già il meglio quello, il fatto che ci sia meno violenza, passato questo periodo, perché io credo che poi passerà l'Italia, insomma devo dire che ci sta comportando benissimo in questo momento. Quello che mi preoccupano un pochino sono i paesi attorno all'Italia, che mi sembra che adottino misure tutt'altro che stringenti. Adesso ne parlerò con i miei ospiti. Adriano Cedentano, io ti ringrazio, grazie per questo intervento a sorpresa, per questo regalo che ci hai fatto. In bocca al lupo naturalmente per tutto e diamo adesso la parola intanto a un cosiddetto esperto, tecnico, virologo. Professor Galli, i numeri di oggi, intanto anche lei pensa che saremo migliori dopo questa emergenza e soprattutto quando la supereremo, perché nessuno azzarda naturalmente di fare una previsione, anche se oggi qualcuno ha ipotizzato che per l'estate potremmo esserne fuori. Lei cosa dice? Guardi, dico che me lo auguro con tutto il cuore che si sia fuori per quest'estate. D'altro canto lei ha usato un termine divertente, cosiddetto esperto, non me ne affendo affatto, ma su una malattia di questo genere, completamente nuova, il termine cosiddetto è corretto. Ne sappiamo veramente molto, ma molto, ma molto poco e forse molti di noi, dei cosiddetti esperti quasi reali e magari non tanto reali, ne abbiamo anche parlato qualche volta a sproposito. Qualcuno sicuramente l'ha fatto. In 42 anni di professione non mi sono mai trovato di fronte a niente di simile, ma non è niente di originale da dire, perché mi pare evidente agli occhi di tutti che questa cosa sia una cosa particolarmente fuori dall'ordinario. Liberi per l'estate? Ripeto, me lo auguro con tutto il cuore. Mi auguro soprattutto di essere capace di continuare a lavorare su questa cosa con decisione e di avere in questo tutti gli italiani che fanno la stessa cosa per cercare di tirarci fuori dai guai. Perché una cosa è certa, che se non ci mettiamo di impegno veramente tutti, i tempi non saranno brevi. Quindi, come diceva Adriano Celentano, che peraltro se è ancora con noi naturalmente può intervenire quando lo ritiene opportuno è state a casa, stiamo a casa. Oggi, adesso, in questi minuti, sta parlando Donald Trump, il presidente americano ha dichiarato l'emergenza nazionale per gli Stati Uniti d'America, ha detto che stanzierà 50 miliardi di dollari, che in un mese saranno pronti 5 milioni di tampone, ma allo stesso tempo ha detto non andate tutti allo stesso tempo a farvi il tampone. La borsa ha reagito subito, il Dow Jones è a più 5,30%, ma insomma, Padellaro, qua tra l'Europa e gli Stati Uniti d'America adesso proprio nessuno sembra salvarsi di più. Certo, come diceva anche Celentano poco fa, forse se i governanti illuminati di tanti altri paesi avessero reagito prima e preso misure più drastiche prima, sarebbe stato meglio, no? E mi riferisco anche ai paesi europei, ai nostri vicini. Abbiamo assistito a una specie di epidemia di insensatezza, di negazionismo, perché aver negato, parlo dell'Inghilterra e degli Stati Uniti, fino a questo momento, no? La gravità dell'epidemia certo non ha facilitato il compito anche dei paesi come il nostro, che invece magari con qualche ritardo comunque si è messo subito sulla strada giusta. C'è un'osservazione che vorrei condividere con chi ne sa più di me, ed è questa. Io ho l'impressione, da giornalista, che la prossima settimana sia una settimana psicologicamente molto importante, perché c'è un'attesa del picco. Cioè il picco è il momento nel quale si scollina e i numeri continuano ad essere sempre importanti, ma insomma si vede, come si dice, la fine del tunnel. Ora, gli esperti ci stanno dicendo che non basta una settimana, forse non ne basteranno due. Ecco, io credo che da questo punto di vista la comunicazione dovrebbe essere, da parte di chi se ne intende molto, molto precisa, e dire che il picco ci sarà, ma non è alle viste, perché senti intorno a me, ma forse quella settimana le cose cominciano ad andare meglio. Ecco, vorrei sapere se è un'impressione fondata oppure no. Professor Galli, e poi andiamo a Londra dal dottor Colau. Professor Galli, chiedo Venia se ho detto pseudo esperto. Naturalmente non posso neanche dire un lapsus freudiano, perché se c'è un vero esperto è lei, ma forse sarà perché abbiamo sentito in queste settimane effettivamente tante persone che si spacciavano per esperti e non lo erano, soprattutto perché abbiamo anche passato un'epoca in cui le competenze, gli esperti sembravano non essere più tanto rilevanti. Ecco, almeno questo capitolo con questa emergenza è probabilmente chiuso per sempre. Alla domanda di Padellaro, il picco quando sarà, secondo lei? Alla domanda di Padellaro rispondo con quanto ha già anticipato Padellaro. Non lo sappiamo, ci auguriamo presto, ma non è affatto detto. Noi stiamo facendo una doppia operazione. Uno, stiamo registrando casi che in realtà sono casi che derivano da contagi di due, tre settimane fa, di una settimana fa, pochi veramente recenti. Secondo, stiamo registrando praticamente soltanto i casi nei sintomatici che, triste cosa, rappresentano una percentuale non maggioritaria del totale dei casi presunti in questo momento in questo Paese. Quindi parliamo di 15.000, ma le persone che hanno avuto l'infezione sono ben di più in questo Paese come anche in altri Paesi in cui però la registrazione ha tenuto ad essere un pochino più, come dire, ampliata anche alle situazioni asintomatiche o paucisintomatiche. Quindi parlare di picco. Parliamo del fatto che ancora per qualche tempo, verosimilmente qualche settimana, avremo questa trista compagnia e cominceremo a capire se stiamo facendo veramente fino in fondo il giusto. In tutto questo qualcosa ancora manca e casomai ne parliamo dopo. Allora me lo dice tra qualche minuto perché vorrei andare a Londra da Vittorio Colau. Buonasera. Allora, lei è italiano che vive a Londra da tanti anni, è stato top manager di Vodafone per tanti anni, di altre grandi aziende. Intanto le posso chiedere come sta vivendo questi giorni lì nella capitale britannica. Ha paura, prende delle precauzioni particolari osservando, immagino, quello che sta accadendo in Italia ormai da tante settimane. Le lo chiedo anche perché il premier britannico Boris Johnson dice delle cose che, diciamo, inquietanti, definirle inquietanti e usare un eufemismo. Per esempio ieri sera in un discorso della Nazione ha detto abituatevi, molti di voi perderanno i loro cari. Lei come si sta comportando e che cosa ci può raccontare dalla Gran Bretagna? Buonasera. Paura no, però sicuramente da una settimana che non stringiamo più la mano a nessuno, in una settimana che ci laviamo con i gel e col sapone ossessivamente, diciamo che è cominciata una fase di grande attenzione. Il problema, se vuole, è quello che dice lei. Boris Johnson e i suoi esperti, perché non è da solo, hanno preso una strada completamente diversa e fanno una scommessa che spero non sia un gioco d'azzardo nel dire, lavatevi le mani, però in fondo se lo prendete non è male così quel picco di cui parlava il professore prima, lo spingiamo in avanti. Non di due o tre settimane, ma di tre mesi, due mesi. Così arriva il caldo, così riusciamo a attrezzare la sanità e chiaramente è una scommessa ma è anche un azzardo, perché se invece si sbaglia noi ci potremmo trovare fra due o tre settimane con molti malati che richiedono cure e questo è un paese che ha la metà dei letti per popolazione rispetto all'Italia, dei letti di terapia intensiva e quindi la scommessa è che spingendolo avanti riusciranno a farne di più, riusciranno a usarli meglio. Se la scommessa è persa, chiaramente una situazione come quella italiana o anche peggio potrebbe verificarsi. Professor Galli, un collaboratore scientifico di Johnson ha spiegato che è bene non ricorrere a misure troppo drastiche come quelle italiane, perché detto in estrema sintesi, più velocemente la popolazione si ammala, più velocemente si immunizza, tanto l'epidemia sarà inevitabile. Ci spiega questa logica? Ha una logica scientifica questo ragionamento? Secondo me è una solenne stupidaggine perché francamente è difficile poter pensare, insomma è un po' cadere nella logica di quelli che ancora adesso dicono il bambino al morbillo mettilo con i fratellini che così si immunizzano tutti nella vecchia storia che si diceva per una delle armi della logica dei Novax. Non è affatto così. Quello che succede è che prima che per una malattia di questo genere, che non si sa nemmeno quanto a lungo ti lasci l'immunità protettiva perché non abbiamo esattamente nozione di quanto duri l'immunizzazione dopo l'infezione. Per una malattia di questo genere per cui non siamo immuni in assoluto, non c'è un'immunità da parte di nessuno, se non forse non sappiamo quanto lunga per quelli che la superano. Prima da arrivare ad una protezione che venga da una generalizzazione dell'infezione e da un radicamento di questa infezione che continua periodicamente a interessare le popolazioni, passano generazioni e passano migliaia e migliaia di morti chiaramente. Ogni tanto si sentono dire queste sciocchezze sull'immunità di gregge su una condizione come questa, per la quale non abbiamo nessuna garanzia. L'immunità di gregge per una malattia come questa, se tutto va bene, può essere ottenuta con una vaccinazione che funzioni e quella chiaramente al momento attuale non l'abbiamo. Aspetta Antonio, ti dico subito la parola, volevo solo sentire Massini perché Johnson, abbiamo sentito che discorso ha fatto, adesso sta ancora parlando Trump e il suo vice Pence e dicono tra le varie cose, allora Trump dice la nostra priorità è limitare danni alle persone e contenere la diffusione del virus. Pence dice americani devono essere orgogliosi di questo sistema rapido e efficiente che stiamo creando. Tanto rapido, tanto efficiente non si ha l'impressione né per la Gran Bretagna e neanche per gli Stati Uniti d'America. questi leader ci stanno dicendo la verità o cosa stanno dicendo? Prima Padellaro parlava di epidemia di insensatezza, io credo che abbia molto ragione, una sensazione che ho anche io nel senso che la politica che cosa sta facendo? La politica sta ondeggiando fra due picchi opposti, o minimizza in modo completamente sbagliato come ha fatto Trump, come hanno fatto molti altri, oppure a un certo punto ingigantisce le cose, oppure pecca di eccesso di realismo come in questo caso quella persona che ha detto appunto perderete tutti i vostri cari e via dicendo. Io credo che il problema qua sia molto franco, il problema è il fatto che noi non siamo abituati, non siamo immunizzati dal punto di vista del sistema immunitario a questo virus, ci hanno detto i medici, ma non siamo immunizzati neanche dal punto di vista psicologico, soprattutto dal punto di vista psicologico. Vede, la sensazione che ho io è che noi prima avevamo davvero tutti quanti una percezione sbagliata di poter controllare il tempo. Se ordinavamo qualcosa su internet, qualcosa che ci dovesse arrivare, se acquistavamo qualcosa, noi automaticamente facevamo la spedizione immediata in modo tale che fra il nostro desiderio e il momento in cui il desiderio si traduceva in realtà ci fossero poche ore, ci fossero addirittura una nottata sola di differenza, perché il tempo era nelle nostre mani. Oggi ci troviamo all'improvviso non soltanto a non avere un tasto da cliccare per poter velocizzare questa cosa, ma ci troviamo giustamente con il professor Galli che ci dice io non so dirvi quanto ancora ci vorrà. E dobbiamo abituarci a questa prospettiva, il tempo non è più nelle nostre mani. Dobbiamo accettare l'idea questa volta di essere noi a servire lui e non lui a servire noi. È una prospettiva completamente nuova alla quale non siamo immunizzati, soprattutto a questa osorire. Antonio Padellaro, tra l'altro ti vorrei dire che Lotti, il deputato Luca Lotti, anche ex ministro e ex grande alleato di Renzi, è positivo al coronavirus. Sta bene a casa, dice che è un virus micidiale che aveva evitato tutti i contatti, fatto di tutto per evitare il contagio e invece è stato contagiato. No, rispetto a quello che diceva prima il professor Galli, proposito di questa scommessa, di questo azzardo di Johnson, volevo chiedere se è un azzardo che, anche se l'Inghilterra è un'isola, rischia di azzardare l'intero continente. Perché noi viviamo in una comunità di stati, quindi se qualcuno si comporta in maniera insensata, per riprendere le cose che diceva anche Stefano, è attenzione che non riguarda soltanto quel paese, ma riguarda un po' tutti. Il secondo elemento, volevo tornare un attimo sulla vicenda del picco, perché noi siamo anche di fronte a dei provvedimenti drastici che ha preso il governo, cioè l'Italia è praticamente chiusa, per usare una frase sintetica. Allora, quello che uno si chiede, ma probabilmente non c'è una risposta, è quanto queste misure potranno andare avanti, perché è stata fissata una data che è più o meno la fine della settimana prossima, poi si è detto anche l'inizio di aprile. Perché attenzione che è un provvedimento che va evidentemente a cascata, ne provoca tanti altri. Chiudere un paese per un certo periodo di tempo può servire, ma poi andiamo a incontro all'ignoto. Professor Galli. Purtroppo io non credo che si possano fare oggi ragionamenti sui tempi di chiusura o di riapertura. Credo piuttosto che sia abbastanza probabile che questa faccenda sia ancora abbastanza lunga. Non ho nessuna gioia nel dirlo, né nessun compiacimento nell'avere eventualmente ragione se questa cosa effettivamente sarà in questi termini. Meglio piuttosto però prepararsi ad una condizione di resistenza nel tempo, piuttosto che illudere le persone che la questione possa essere risolta in 448. Bisogna trovare il modo di avere una maggior vicinanza nei confronti delle persone, soprattutto delle persone che devono stare in quarantena. Mi riferisco alle persone ovviamente riscontrate positive per il virus, ma che non necessitano di ricovero. Voi sapete che abbiamo una saturazione degli ospedali in determinate aree, tale per cui non è pensabile che le persone che stanno bene pur con l'infezione stiano in ospedale. E poi ci sono tutti coloro che hanno invece avuto contatti con le persone positive, contatti comprovati e che devono stare comunque in quarantena per evitare a loro volta di poter diventare fonti di contagio nel caso in cui si fossero contagiate. Questo è un aspetto su cui ritengo che si debba lavorare parecchio, che si debba lavorare parecchio con la mobilitazione dei medici di medicina generale ad esempio, che si debba considerare con degli interventi di telemedicina, che si debba, e si può organizzare, non è una cosa impossibile, che si debba considerare dando la possibilità comunque di una vicinanza reale, di una valutazione reale della qualità di queste quarantene. Perché noi abbiamo operato un processo di distanziamento sociale adesso, costringendo per forza o per amore o per convinzione, sperando per convinzione, le persone a stare in casa e a non frequentare luoghi affollati. Ma ugualmente, ove ci sono già focolai di infezione molto significativi, o li fermi lì, potrei citare i risultati di una recente proiezione pubblicata sull'Anset, che dice che se tu non controlli e non metti in quarantena il 70% dei contatti delle persone, risultate positive, non hai nessuna chance di fermare questa cosa entro tre mesi. Questo forse, chissà se l'avranno detto anche, professor Galli, chissà se l'avranno detto anche al presidente Trump, che appena detto sarete sorpresi di vedere come sono efficaci. Il problema è che Trump lo possa capire. È vero, speravamo nei suoi collaboratori, ma insomma ha detto che gli americani saranno sorpresi di vedere come sono efficaci le misure che sono state prese rispetto a quelle prese da paesi più piccoli. Ora, diciamo il riferimento all'Italia sembra molto molto evidente e quindi chiederei a Colau, di sicuro i mercati hanno molto gradito questo discorso di Trump perché Wall Street supera il 9%, vola il petrolio che sale del 7,5%. Che cosa vuol dire questo concretamente? Vuol dire che la finanza si fida del presidente americano Trump? Vuol dire che la finanza è molto emotiva? Ce lo è che i mercati che poi sono mossi da persone sono sollevati dal fatto che la fase di negazione e di disattenzione forse sta finendo e che la presa di coscienza della gravità del problema anche e perfino con Trump è arrivata e quindi pensano che ci saranno manovre più serie. Io volevo però aggiungere una cosa sul discorso del Regno Unito perché è vero che la posizione, come diceva il professor Galli, la proiezione di Johnson e dei suoi due scienziati è abbastanza curiosa, è anche vero però che in parallelo da una parte anche senza le misure molte cose stanno comunque succedendo, hanno sospeso il campionato anche se non lo volevano sospendere. Guardavo stasera venendo qua con la Uber, i pub non sono pieni di gente che brinda, anzi sono piuttosto vuoti, quindi c'è un po' di autocontenimento, le aziende sono tutte chiuse, cioè lavoriamo tutti da casa, tutte le aziende con cui io sono coinvolto ormai da 3-4 giorni hanno mandato la gente a casa e si lavora da remoto, quindi un po' di presa di coscienza c'è. Quello che credo se vogliamo trovare un positivo in tutto questo è che aziende che, anch'io per primo sono colpevole di questo, fino a 20 giorni fa parlavamo di algoritmi, di robot, di automazione, stanno velocissimamente comprendendo di nuovo l'importanza delle persone, del fattore umano, di pagarle bene, di dare l'assicurazione sanitaria, di occuparsi di come stanno e di aiutarle a fare in remoto quello che facevano prima. Quindi credo che da questa crisi, che spero sia la più corta possibile, comunque usciremo con una rivalutazione del ruolo delle persone nelle istituzioni e nelle aziende. Rivalutazione del ruolo delle persone Massini e poi voglio sentire Padellaro anche su questo? Assolutamente sì, io ne ho parlato anche ieri sera a Piazza Pulita, noi abbiamo avuto l'illusione negli ultimi tempi che potessimo tutto sommato senza problemi sostituire le persone reali, le persone fisiche con altre entità. L'abbiamo fatto sul lavoro, l'abbiamo fatto sui luoghi di lavoro con i robot, con gli automi, l'abbiamo fatto anche virtualmente nella nostra vita comune, quando magari abbiamo preferito chattare con qualcuno online piuttosto che incontrarlo dal vivo e dargli una pacca sulla spalla. Ecco, io sono molto d'accordo con quello che ha detto Colau, stiamo riscoprendo, probabilmente lo riscopriremo ancora di più, la profonda, imprescindibile necessità dell'essere umano, che avrà i suoi limiti, avrà le sue manchevolezze, avrà sicuramente le sue lacune, ma è fondamentale. Noi abbiamo bisogno di umanità, l'uomo è un animale sociale e noi lo stiamo provando in questo momento, quanto sia difficile e in certi casi profondamente drammatico togliere a una comunità di esseri umani la loro socialità. Non è qualcosa di occasionale e di marginale, è qualcosa che attiene alla natura stessa, siamo fatti così, non possiamo vivere bene senza toccarci, senza parlare, senza incontrarci. Però per il momento Stefano Massini dobbiamo agire diversamente. No, è una situazione che impone serietà. Attenzione, non è una frase retorica, abbiamo vissuto fino a due settimane fa, tre settimane fa, occupandoci anche di cose poco serie, perché così andava il mondo. Io credo che questa epidemia abbia resettato tutta una serie di atteggiamenti, di comportamenti, di giudizi, di cui alle persone non interessa più nulla. Non è che lo dico io, ci sono tutta una serie di argomenti che riguardano la sottopolitica, riguardano il potere, riguardano eccetera, 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 che sono diventati insopportabili, finalmente, potremmo dire, per la comunità, la quale invece sta concentrando sulle cose che contano in questo momento. Speriamo che sia un processo che vada anche oltre l'epidemia. Professor Regalli, le vorrei chiedere ancora rapidamente una cosa. Siccome il governo Conte ha garantito, dopo l'incontro avuto oggi con i sindacati, che tutti i lavoratori avranno rapidamente le protezioni necessarie, quindi mascherine, guanti, secondo lei andrebbero chiuse tutte le attività produttive non collegate ai servizi essenziali? È una domanda a cui in questo momento non sono in grado di dare risposta, se non nell'ambito delle aree nettamente più colpite dal problema. Ci sono delle situazioni in cui verosimilmente sono chiaramente emerse delle importanti, un'importante diffusione dell'infezione, una diffusione che nonostante tutto rischia di essere incontrollata a lungo, in quelle aree è verosimile che si debba tornare ad una situazione di fermo totale, tornare perché ho in mente il discorso della zona rossa che poi fu a un certo punto riaperta facendo una cosa che probabilmente in parte non ha consentito di completare, di avere gli effetti degli sforzi, sì, ha dato un messaggio sbagliato e non ha nemmeno completato gli sforzi, non ha dato il massimo risultato degli sforzi delle persone che hanno dovuto subire, voluto subire e volontariamente subito le limitazioni che hanno avuto per un periodo. Credo che in giro per la Lombardia ci siano altre aree che meritino un fermo totale e poi dobbiamo ancora ben capire che ne è dell'area metropolitana di Milano da questo punto di vista, dove ci giochiamo gran parte delle carte del futuro di questa epidemia e della nostra capacità di batterla. Allora, parole gravi, parole serie, parole che a questo punto sono state fatte proprie anche da molti paesi europei, abbiamo visto gli Stati Uniti, molti stanno parlando di chiudere i confini, Trump ha detto adesso che ha parlato col Premier canadese Trudeau che non hanno però ancora deciso se chiudere i confini, la Danimarca ha deciso che li avrebbe chiusi, altri paesi lo hanno già fatto, quindi si sta prospettando un mondo completamente diverso e l'Europa, l'Europa va in ordine sparso, anche se oggi sono arrivati dei segnali molto positivi dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen che ha detto che l'Italia avrà tutto ciò di cui ha bisogno, però è vero che l'Europa avrebbe gli strumenti per marciare unita. Ce li spiega Paolo Pagliaro, poche secondi di pubblicità. L'Austria e la Slovenia hanno sbarrato le frontiere con l'Italia e la Francia invece ha tenuto aperte. Alcuni hanno sospeso i voli, altri no. In Belgio, di fronte all'inerzia del governo, un'intera città, Knok, si è messa in quarantena da sola. Alcuni paesi hanno bloccato l'export di mascherine, altri rispettano i contratti. Insomma, nell'emergenza coronavirus, gli europei faticano a trovare risposte comuni, anche se sta crescendo la consapevolezza che l'epidemia non ha passaporto e non rispetta i confini. Tra l'altro, pur essendo la sanità una materia di competenza dei singoli stati, l'Unione ha previsto nei suoi trattati diversi strumenti che dovrebbero legittimare politiche comuni anche in questo campo. L'articolo 168 del Trattato di Lisbona prevede al paragrafo 5 la possibilità di attuare misure di incentivazione per proteggere e migliorare la salute umana, in particolare per lottare contro i grandi flagelli che si propagano oltre frontiera. L'articolo 222, la cosiddetta clausola di solidarietà, prevede l'obbligo di portare assistenza a uno Stato membro in caso di calamità naturale o provocata dall'uomo e infine l'articolo 196 prevede azioni comuni di protezione civile. Esiste poi nell'ambito dell'Unione Europea un centro di eccellenza CBRN che si occupa di crisi chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari. Raccoglie i massimi esperti in materia e negli ultimi anni ha messo a punto diverse tipologie di interventi da attivare anche in caso di pandemie. Dopo aver fornito la sua consulenza a molti paesi del mondo, ora avrebbe l'occasione di rendersi utile anche a chi lo finanzia, cioè all'Europa. Siamo in chiusura, io ringrazio molto i miei ospiti, grazie Antonio Padellaro, grazie Stefano Massini, grazie Vittorio Colau, grazie professor Galli, ma non è che Milano, Milano città diventerà un nuovo focolaio, è quello che teme? Rapido. Fino adesso non abbiamo avvisaglie particolari, però insomma la faccenda deve essere ben controllata e ben vista nei prossimi giorni. Grazie, grazie professor Galli, linea Diego Bianchi al suo propaganda live con molti ospiti, quindi state con noi, noi come sempre ci vediamo domani, 8 e mezzo, grazie e buona serata, arrivederci.